ragazzi iscrivetevi al canale vi accanto oggi su un sit di sugan bellissimi che ci sono finito anche ragazzi vi lascio vedere questo video è fantastico e niente ma buona visione bella a tutti ragazzi bentornati questo video ragazzi oggi ragazzi siamo da soli peron e parti ci sono a freddo bella su questo canale ragazzi io vi metto il link in descrizione Perché mi sono parato finalmente Ma mi sono parato Ragazzi non perdetevi lo scorso video che abbiamo fatto una pittona reale in arena Vai ora Giocheremo Vai sperando di vincenna Subito l'amico L'amico perché sta fermo Da con bollo Wow Ok oh non ci potrà che No che cosa non dice questo No Ma che è questo? Alberto C'è un Alberto che mi mette una palla Eh vabbè però Alberto non me la metterò così Ok 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 Allora ragazzi 11 like Allora 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 no che cosa che pallonetto ragazzi buon giuonissimo ah ragazzi seguite anche su instagram spirito ufficio a clanno cassione ch e poi se vi volete se vi volete poi quelli del team i membri del team sono di fortemente sono cristian riccardo si ci guarda cico e bo a freddo ci si poi abberto abbenante punto 6 no abberto abbenante solo poi poi a francesco 0 6 1 10 e 1 0 golla di leo come chico no 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 Grazie a tutti E' gol, un altro gol Facciamo la tripletta, 4 a 1 Mamma mia Un altro gol 5 a 1 Mamma mia Un altro gol 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 scusa oh la cosa ma questo era dell'altro video petito scusa andatelo a vedere se vi siete messi lo scorso video con una belta appenanda ragazzi eh con una belta appenanda con xxx 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 vuoto che è? perchè? gradissimo è il tema però me lo fanno comunque detroit è gratis eh ho visto c'è un negozio passato a me io stavo anche giocando però a me non mi funziona all'r2 no? su quando guido quando gioco allora a me quando gioco a questi giochi qua devo fare gps r2 a me non funziona infatti non funziona qua ci prendo che oggi a jesse jose bellissimo il tema di proprio fuori no io invece mi sono scaricato il tema di 3 volte anche fuori bellissimo da fuori cioè alla fine è un bel gioco però poi dopo un po' è scocciante la buona ma spedermine è sempre bella alla fine al capi per favore la buona spedermine è sempre bella città poi vissi a livello anderson ci sono apporti arco non c'erano c'è per cento e non dei calci e dall'aglio a indista chi schifo buono il secondo mare perchè hanno capito che la ritorna stile vado in gara si si non giocava a fife la mia scelta ah va bene però finisco la partita così finisco anche il video ok naga ma fortuna a me vabbè fortuna a me ci ho imparato ma che cazzo di quello l'ha fatto quello eh no ma voi cioè vorreste una nuova serie con xxx tembest xxx ha freddo oggi e un uag cazzo di lag e se la danno male ma do do eh fra ora mi senti si ok vorreste una serie ragazzi di world world z si ragazzi continui però non lo so quando eh seguiteci su instagram per essere aggiornati che mi senti 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 con i miei o ci sono i miei me che cazzo di culo ha fatto questo ma non mi fa perché viene addosso no ma dove cazzo ambe gilet hashtag ambe gilet che si è oggi 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 mi prendo una domina da sera ma poi come fai a fare i video nella tassiera cioè avviene prima della playstation io avvio prima col controllo e non c'è la tassiera poi me la c'è con lega me vicino alla tastiera e c'è con le picche caso buono ma che tassiera è la tassiera è professionale tutta il progetto dei non disponibile gazzetta ma stiamo facendo un aggiornamento di sui picchiuno no non c'è ma si facendo che mi piace non mi vengo a me si fa a me si fa ma a me rainbow prima mi piace poi no si si mi piace però basta a me fa tanto che mi sto facendo un botte negli ultimi giorni a me fa tanto che mi sto facendo giù vabbè si però poi dopo un po' io mi scoccio invece ora non mi scoccio mai non so perché c'è il gioco come fa tanto dove lo prendi ah ma non c'è qua no invece è bello che è anche gratuito eh per questo ha tutti quei bad queste cose qua perché se fosse un gioco c'è che si guarda sarebbe un gioco più bel del mio che non abbagli che a pagamento c'è è difficile che apprendi bug queste cose qua mi fa oh bella davo dai dai ok 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 bella bellissima sta musica attenta sotto metti un po' il ginora però va bene amico parola bella ancora altre 10 secondi attenzione c'è bella 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 no che cazzo si vabbè ragazzi finisce questo video attivate commentare e scopate al canale scopate anche al canale di Alfredo Cesini xxx xxx e di crimson game e niente ragazzi bella troppo città e fa ho mu xxx 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 Grazie a tutti.